Un mese fa, esattamente un mese fa, era l'ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere. Un governo che stava in quel momento cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati, riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più alla fine dell'anno per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Grande responsabilità di chi ha fatto cadere il governo. Noi crediamo che un mese dopo la memoria degli italiani non abbia cancellato tutto questo e siamo qui a ricordarlo a tutti e a dire a tutti che noi con linearità porteremo avanti quelle idee se vinceremo le elezioni una mensilità in più alla fine dell'anno dovuta alla riduzione delle tasse sul lavoro per le lavoratrici e per i lavoratori, il cuore del nostro programma.